Bene, buonasera dottoressa Ciocchini, ciao Valentina e grazie per questa intervista insomma che preludio al tuo prossimo seminario al centro milanese di terapia della famiglia. L'argomento è un argomento controverso perché è psicofarmaci in psicoterapia, tu sei una collega, sei una psichiatra oltre a questo sei psicoterapeuta eccetera. Insomma è un argomento controverso, c'è da scegliere sempre tra conoscere qual è la psicofarmacologia e non conoscerla, noi scegliamo di conoscerla ovviamente. Assolutamente, infatti grazie Enzo di questa nuova possibilità che il centro insomma che tu mi offri di poter fare questo seminario con gli allievi del primo anno su questo argomento a volte ancora molto ostico ma che credo sia assolutamente necessario appunto anche per uno psicoterapeuta che magari uno può dire non è il mio compito quello di prescrivere o conoscere i farmaci ma in realtà io credo che conoscere le principali classi di farmaci serva assolutamente non solo in ambito clinico allo psicoterapeuta ma perché secondo te quante volte gli verrà chiesto da un paziente che sta assumendo meno psicofarmaci se secondo lui, secondo lei è la via giusta. Io credo che ormai ci siano veramente poche persone che non abbiano mai assunto uno psicofarmaco nella vita né bene né male e io come te sono fermamente convinta che bisogna conoscere sia per assumerlo, per decidere di prescrivere un farmaco ma anche sia conscienziosamente, consapevolmente decidere di non prescriverlo però bisogna conoscere innanzitutto a che cosa serve e quali sono gli effetti che il farmaco può dare. Poi è molto interessante come ho fatto l'anno scorso sapere che idea hanno della psicofarmacologia anche gli allievi perché per esempio è ancora molto controverso nella nostra società decidere se io assumo un farmaco perché sono malato o se assumo un farmaco perché non sono malato. quindi ancora lo stigma è la grande distinzione tra le malattie mentali da tutto il resto invece delle malattie organiche che sono più legittimate. Il paziente è più legittimato a assumere un farmaco perché è iperteso piuttosto che assumere un farmaco perché è depresso. E poi entreremo anche nel vivo di alcuni di alcuni casi che io ho seguito per insomma stimolare un po' di curiosità in questo in questo senso agli allievi. Insomma introduciamo da un paio d'anni un argomento anche un po' nuovo forse per il treno informativo degli allievi che solitamente... Tra l'altro è indicato da tutti i programmi ministeriali. Il tema è anche insomma la conoscenza della farmacocinetica, la conoscenza dei principi attivi, di come funzionano eccetera chiarisce anche che cosa ci si può attendere da un farmaco, cosa non ci si può attendere da un farmaco qual è la relazione appunto anche con un medico, con i colleghi che li prescrivono perché insomma al centro c'è sempre come dire il paziente, la sua famiglia, le sue storie. Sì sì io non ho la pretesa di ovviamente formare dei piccoli farmacologi, questo assolutamente non sarei nemmeno in grado probabilmente, però almeno di dare quell'idea di quelle grosse grandi classi di farmaci infatti parleremo di principio attivo, non parlerò di brand durante il seminario di sabato ma assolutamente il farmaco credo che entri in modo preponderante delle famiglie dei pazienti che poi li assumono con tutto il giudizio che si porta un po' dietro, no? Tu puoi partire dai casi e poi c'è dal... Assolutamente. Naturalmente sempre dalla legge. Porterò un caso abbastanza complicato su... ho voluto scegliere un argomento relativamente nuovo perché sono stati fatti dei nuovi studi sugli stabilizzatori dell'umore che nascevano fondamentalmente per le gravi forme epilettiche tanti anni fa invece poi lo studio ha portato a vedere che hanno anche degli altri effetti agendo sempre sugli stessi canali neuronali, effetti appunto di equilibrio insomma di portare a un ottimismo la persona che lo assume quindi farò un caso probabilmente... non lo spoilerare subito agli allievi su questo e quindi poi la prima parte di solito della giornata è quella anche forse un po' più pesante da seguire perché comunque su seguirsi di informazioni magari con qualche richiamo appunto la neurofisiologia, la neuronatomia e poi parleremo cosa molto importante della risposta individuale al farmaco perché è vero che è molto importante conoscere che cosa noi ci aspettiamo da quel farmaco quindi quali sono le indicazioni per cui viene prescritto meno ma anche la risposta individuale del farmaco perché ci sono studi soprattutto sugli psicofarmaci che una stessa molecola somministrata agli stessi dosaggi dà su due persone differenti due effetti differenti, no? Un po' come lo studio dell'effetto placebo poi del resto. Ecco ma tu nella pratica clinica come fai a conciliare l'essere psicoterapeuta ad essere... Allora io ho voluto fortemente fare lo psicoterapeuta come strumento io mi ricordo che dissi a Gabri che è stata la mia insegnante al primo anno che volevo conoscere, volevo avere altri strumenti per comprendere il disagio soprattutto delle famiglie perché io lavoro prevalentemente diciamo tra le tante cose che faccio in questa residenza per disabili sia psichici che non ma soprattutto con un'impronta psichica forte il disagio lo porta tutta la famiglia, non lo porta soltanto la persona che diciamo è il paziente designato, no? Noi chiameremo e quindi sentivo che mi mancavano degli strumenti in quel senso dopodiché ho... cioè mi occupo anche di psicoterapia tra virgolette come dico sempre io è normale, no? Con persone che ci portano problemi comuni della quotidianità senza essere affetti da nessun tipo di disturbo e devo dire che questo mi arricchisce più che come riesco a conciliarlo questo mi arricchisce molto come mi indico. Tu poi lavori in un territorio estremamente complesso che è quello anche della terza età delle persone che come dire superano come me ma prossimamente ecco gli anta ecco entrano negli anta eccetera In realtà io di formazione sono geriatra e non puoi immaginare quanto venga tralasciato il disagio psichico di una persona che abbia compiuto ormai diciamo oltre 65 anni viene completamente tra... cioè dopo i 65 anni una persona non è più in grado di avere delle emozioni di avere... di poter ottenere dei cambiamenti così è così deve morire non è così la maggior parte dei miei pazienti che prima ho definito normali in studio sono over 70 e non vengono perché devono farsi curare la demenza senile piuttosto che la terosclerosi ma vengono magari perché hanno problemi col marito perché hanno problemi con i figli cioè cose normali che secondo me l'ho detto già in un'altra occasione in un'altra riunione con i colleghi quindi noi ci dimentichiamo che non è che dopo i 65 anni uno basta non si modifica più anzi anzi danno anche molta soddisfazione sono anche molto determinati dal voler stare bene anche psicologicamente peraltro ho fatto anche molte consulenze a alcuni conoscenti degli allievi che mi hanno sentito l'anno scorso quindi insomma si vede che qualche cosa è rimasto la richiesta recente così di una persona ottantenne che non si accontenta che soffre di un disturbo d'ansia e non si accontenta di un ansiolitico e ha chiesto una psicoterapia ecco questo è una gran cosa perché di solito arrivano purtroppo questi pazienti che assumono tipicamente l'alprazolam perché chi ha adesso 70-75 anni quando ne aveva 30-40 andava molto l'alprazolam come molecola veniva dato un po' da psichiatri e non anche dai medici di base che lo assumono magari da 40 anni non ha più alcun effetto da un punto di vista biologico e fisiologico non ha più alcun effetto però se la persona smette di prenderlo non dorme la notte no? è qui che poi entra invece la psicoterapia quindi tu puoi accompagnare a lasciare una molecola che di fatto non ti serve a niente e magari ti dà anche degli effetti avversi o se vuoi prendere un farmaco che ti serve faccio un esempio per un problema renale non lo puoi prendere perché prendi l'alprazolam è qui che veramente la terapia la psicoterapia deve deve servire a qua ma anche con pazienti più giovani l'accompagnamento al farmaco che a volte è utile perché nei grandi psicosi io di certo non andrò a dire che la psicoterapia è l'unica chance nei grandi psicosi purtroppo il farmaco serve come ma ho visto anche per esperienze personali che si possono abbandonare lentamente io sono anche membro di IPDV non mi chiedere l'acronimo in inglese che è questa società fondata da Tebaldi che è un psichiatra per la deprescrizione farmacologica ci sono proprio degli studi biologici sull'inefficacia dopo tanti anni di alcuni psicofarmaci sui grandi effetti deleteri che hanno e sulla possibilità di deprescrivere in modo del tutto sicuro sia chiaro perché poi una persona che assume lo psicofarmaco da tanti anni non è lo 0,5 mg di alprazolam magari è un risperidone se lo toglie all'improvviso forse poi qualche problema da un'altra parte ce l'abbiamo insomma lavoreremo con i pregiudizi come al solito cercando di fare in modo che i pregiudizi diventano un'occasione di conoscenza per sempre gli altri bene che va lenti quello che cerco sempre di lasciare è uno stimolo alla curiosità al voler saperne qualcosa di più questo per me già è portare a casa un successo grazie mille, grazie mille buon seminario a tutti grazie